Siamo all'Asso Vasto dove, come dimostrano le immagini, c'è una riunione esplicativa su due misure della Regione Abruzzo. Ne parliamo nel dettaglio con il Presidente della Commissione Attività Produttive, che è al mio fianco, alla mia destra, Nicola Argirò, e con il dirigente del settore formazione della stessa Regione, il Dottor Ignazio Rucci. Partiamo da Argirò. Come mai queste due azioni? Beh, è importante l'opera di sensibilizzazione che come istituzione abbiamo il dovere di fare per avvicinare i professionisti, i cittadini, che vogliono fare impresa. 12 milioni e mezzo di euro raccolti dal Fondo Sociale Europeo, 12 milioni e mezzo, questi 9 milioni sul fare impresa, quindi per categorie svantaggiate, inoccupati, disoccupati, casse integrati. 3 milioni e mezzo invece per l'impresa al Femminile, con un fondo perduto al 50%, che può arrivare a un 50%, con un massimale di 200 mila euro a progetto. Può essere fondo perduto, può essere prestito d'onore, può essere canone di leasing. Io credo che però l'aspetto importante sia intanto la capacità dell'assessore Gatti e del settore lavoro e formazione, di cui ci rende onore rivedere per l'ennesima volta Ignazio Rucci qui da noi ad illustrare appunto i progetti, che sa catalizzare risorse anche di anni addietro. Questi sono dell'annualità 2007-2013, risorse prima non prese, non raccolte dall'Abruzzo e che vengono messe in campo. È importante però, ripeto, l'opera di sensibilizzazione, se vedete questo fa seguito a quasi tutti i bandi importanti che la Regione Abruzzo ha fatto. A metà marzo abbiamo fatto la legge sulla prima casa, negli anni passati la Regione Abruzzo, i fondi venivano restituiti perché non c'erano domande, perché la gente non sapeva che c'era questa opportunità. Sembra dei primi resoconti del settore che invece la legge sulla prima casa si è esplosa proprio con questi incontri formativi che il Presidente della Fira Micucci ha voluto sul territorio e che noi facciamo a vasto il 13 marzo nella struttura dei gabrellini. Questi bandi, anche se può sembrare a qualcuno così inopportuno dire faccia pochi giorni prima dal bando, ma hanno una storia lunga, su questi bandi già Ignazio Rucci, già io li presentammo a ottobre dello scorso anno perché ci furono degli incontri formativi con delle giovani imprenditrici o giovani imprenditori che volevano fare impresa e si sono svolti nel mese di dicembre scorso degli incontri formativi che daranno più punteggio a quelli che hanno fatto i corsi formativi. Quindi è una storia lunga che si va a concludere tra pochi giorni ed è importante avere scritto all'ordine dei commercialisti, dei revisori, dei ragionieri, perché sono poi loro che devono fare i bandi, promuovere tutte quelle iniziative per far sì che anche questo bando abbia una grossa riuscita e abbia l'aspirazione chiaramente di non prendere più in giro le persone con il posto fisso. Oggi la politica è abituata, soprattutto in campagna elettorale, a promettere un posto fisso che non c'è più. La sfida grande è quella di fare impresa. Nuova occupazione, ognuno di noi può fare impresa. Questo è rivolto proprio ai piccoli, alle piccole e medie imprese, ai negozianti, ai commercianti, agli artigiani per far sì che si possano costruire un futuro migliore o dall'espulsione del mondo del lavoro oppure per i giovani e le giovani che non trovano, ripeto, più il posto fisso che non c'è e la regione Abruzzo gli mette a disposizione di poter mettere la metà dei finanziamenti sul piatto. Penso che non sia una cosa da poco. Sì, dottor Rucci, qualche consiglio tecnico specifico a chi volesse accendere, a chi volesse presentare domanda per questi due bandi? Guarda, noi come settore lavoro e formazione abbiamo, come giustamente ha detto il Presidente Argirò, anticipato questo bando con un altro bando che prevedeva appunto la preformazione, cioè preparare i soggetti che avevano interesse a fare impresa, fare un periodo di formazione e quindi prepararli e abbiamo in tutta la regione Abruzzo gestito alcuni interventi, percorsi formativi per preparare appunto questi giovani a fare impresa. Dopo questa fase di percorso formativo c'è una fase di accompagnamento che si sta svolgendo proprio adesso, cioè la società che ha vinto la gara sta accompagnando queste persone che hanno finito il percorso formativo quindi a prepararli, a presentare, coloro i quali vogliono fare impresa, a presentare proprio il progetto di formazione. Con un'idea progettuale che loro hanno avuto loro fanno la fase di accompagnamento. Quindi noi contiamo che dopo il successo che abbiamo avuto con lavorare in Abruzzo 1 e adesso ripeteremo lavorare in Abruzzo 2, che come obiettivo era quello di dare incentivi alle imprese per la trasformazione dei contratti, per la nuova assunzione, che ha avuto un grande successo, tant'è che l'assessore Catti, che questa terra doveva venire ma per altri impegni non è stato potuto essere presente, abbiamo a livello nazionale presentato questo modello sperimentale dell'Abruzzo proprio, che ha dato grossi risultati come incentivazione alla piccola e media impresa. Abbiamo adesso la possibilità di ripeterlo e con questo bando però scommettiamo una cosa, che tutti i giovani che chiaramente vogliono non un posto fisso, come giustamente diceva il Presidente, ma creare, avviare una nuova impresa, quindi noi abbiamo parlato qui di nuova impresa, noi come regione abbiamo divulgato, abbiamo fatto una fase di sensibilizzazione e abbiamo dato la possibilità di semplificare al massimo la procedura di fare l'istanza. La cosa importante è questa, siamo passati da un passato, si prevedeva un 20% a fondo perduto, noi con l'assessore Catti l'ha voluto portare al 50%, cioè aumentare il fondo perduto consente al giovane, poi dopo, dopo la istruttoria favorevole da parte della regione, si può al giovane o società o ditta individuale, perché abbiamo preso due le tipologie, ditta individuale o società, presentarsi all'istituto bancario già con un decreto nostro di impegno della regione che è di da a fondo perduto, quindi la garanzia è di questo decreto, quindi l'istituto bancario può intervenire per l'altra parte del 50%. Un'altra cosa importante è che appena la regione esamina positivamente l'istanza, daremo subito un acconto del 50% del 50%, quindi ci siamo spinti ben oltre. Se questa iniziativa avrà successo, l'assessore si è anche impegnato pubblicamente di intervenire, dando ancora ulteriori risorse in economia a sostenere questa iniziativa.